Saranno oltre 50.000 gli studenti iscritti all'Università di Firenze che dal 1 novembre potranno usufruire del libero accesso su autobus, urbani e tramvia. Lo stabilisce l'accordo tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Ateneo Fiorentino e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, oltre a OneScar, Società Gestore del Contratto Ponte per il Trasporto Pubblico Locale. Come titolo di viaggio basterà avere la carta dello studente universitario della Toscana. Un ulteriore passo per il sostegno al diritto allo studio e per il sostegno alla cittadinanza studentesca. L'accesso negli autobus urbani e nella tramvia sarà inserito all'interno della carta dello studente toscano. La possibilità di usufruire dei trasporti pubblici con la carta dello studente rientra nel più ampio pacchetto Mobilità Sostenibile Cultura e Salute dell'Università di Firenze che dà diritto anche ad altre agevolazioni come mensa e accesso a musei e teatri. La sperimentazione durerà fino al 31 ottobre 2019 e ora si pensa già ad esportare il modello in altri Atenei Toscani. Da una parte è una misura ambientale che avrà un effetto sul decongestionamento dei flussi di traffico, dall'altra è anche una misura di carattere culturale e di sensibilizzazione all'utilizzo del mezzo pubblico. A ogni studente universitario per accedere al pacchetto dei servizi è richiesto un contributo di 48 euro. Il gestore dei trasporti OneScarle installerà i dispositivi per leggere le carte a bordo dei bus. Questo risultato credo straordinario, siamo il primo Ateneo e lo facciamo grazie al concorso della Regione e alla sua forte attività promozionale dell'azienda per il diritto dello studio del comune della OneScarle. E ora si pensa anche a possibili accordi con i gestori del bike sharing per rendere ancora più sostenibile la mobilità. E ora si pensa anche a possibili accordi con i gestori della Regione